Una variazione cromatica della Sacra Spina di Andria, un segno con il quale Dio ci sta dicendo che lui è sempre vicino al suo popolo e patisce con chi è nel dolore. Per certi versi un prodigio che si sta compiendo in questa settimana santa, annuncia il Vescovo della Diocesi di Andria, Monsignor Luigi Manzi. La reliquia della Sacra Spina è custodita nella cappellina privata del Vescovo, ora che le chiese sono chiuse per l'emergenza coronavirus. Qualcosa è accaduto, racconta Monsignor Manzi all'inizio della settimana santa. La Sacra Spina ha mostrato una colorazione diversa dal solito. Per questo è stato invitato il dottor Antonio Riezzo, ematologo e presidente della Commissione Scientifica dello scorso prodigio, avvenuto nel 2016, a prendere visione dello stato della reliquia. E anche altri testimoni con i quali il Vescovo Manzi si è confrontato, tra questi il Vicario Generale Don Gianni Massaro, il Segretario del Vescovo Monsignor Nicola Deluvo ed il Presidente del Capitolo Cattedrale Don Gianni Agresti, hanno verificato quella variazione di colorazione. Da giovedì scorso la Sacra Spina è sotto osservazione di telecamere ad alta definizione che registreranno ogni minima variazione. Quello che il Vescovo ha fatto mettere a verbale riguarda la consistente variazione nella colorazione abituale dell'intero corpo della spina. È diventato molto più chiaro rispetto alla punta che ha un colore marcatamente scuro. Nel pomeriggio di venerdì santo ecco una seconda variazione ben visibile. La parte bassa della Sacra Spina, racconta Monsignor Manzi, si è notevolmente schiarita. Un segno eloquente in questo periodo di pandemia che è segnata dal silenzio e dal lutto della vicinanza di Dio. Lui è sempre vicino al suo popolo, commenta Monsignor Manzi, e patisce con chi è nel dolore.